Presentato ufficialmente presso la sala gonfalone del comune di Salerno, The Save Movement, movimento animalista nato a Toronto nel 2010 e che attualmente conta più di 600 gruppi in tutto il mondo. Obiettivo sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sulle atroci sofferenze subite dagli animali negli allevamenti intensivi, sull'enorme inquinamento e deforestazione causati sempre dagli allevamenti intensivi e su come la nostra salute sia a rischio per il consumo di prodotti di derivazione animale. A Salerno noi abbiamo fatto delle indagini sui mattatoi, abbiamo visto che come mattatoio più attivo è quello di Atena Lucana e infatti abbiamo già svolto tre veglie lì, l'ultima ieri e poi ci saranno video che verranno pubblicati sulle nostre pagine. Sono video molto forti insomma video sentiamo gli animali che urlano prima di essere uccisi. Insomma quello che noi vogliamo fare è documentare, far vedere gli occhi degli animali prima di andare nei macelli in modo tale che la gente possa capire che dietro quella fettina di carne c'è un essere vivente che voleva vivere, voleva essere lasciato libero, proprio come noi insomma, vogliono vivere semplicemente come noi, hanno sentimenti come noi, soffrono, sentono amore, felicità e quindi questo è il nostro messaggio. Poi abbiamo pensato anche di concentrarsi sull'aspetto climatico perché comunque è tutto correlato, in effetti il cambiamento climatico, una delle cause principali sono gli elementi intensivi e questo viene detto poco, quindi perciò noi siamo qui per informare e far capire che la nostra dieta ha un impatto enorme sul cambiamento climatico di oggi e attualmente per esempio una delle nostre grandi campagne che siamo portate avanti è l'ulteriore deforestazione dell'Amazzonia proposta dal nuovo presidente Bolsonaro e ovviamente questo non è un problema solo il brasiliano, è un problema di tutti noi perché appunto il cambiamento climatico riguarda la nostra terra e il presidente Bolsonaro vuole ultimamente deforestare l'Amazzonia per fare posto agli elementi intensivi, se continuiamo così insomma non so che fine ne faremo tutti, quindi è bene che oggi cominciamo a prendere le iniziative, cominciamo insomma ad essere attivi tutti e insomma a prendere le decisioni noi come consumatori perché possiamo cambiare le cose.